Buongiorno da Ilenia, Morgane da Mirko, eccoci qua, e cosa facciamo vedere oggi ragazzi? Le Glimmys Aquaria! E vai! E si ruminano l'acqua, infatti abbiamo preparato l'acqua, infatti abbiamo preparato la vaschettina d'acqua. Allora, ho acquistato due bustine perché sinceramente sono aumentate un po' di prezzo, insieme alla bustina vi danno il libricino dove trovate, prima di tutto il prezzo, 5,99, che sinceramente è un po' tantino. Le Glimmys Aquaria! Allora, abbiamo, vediamo se riusciamo a farlo, la fuoco, abbiamo tutta la storia che parla delle Glimmys, il mondo magico, abbiamo questo, abbiamo batti 5 alla natura, una foresta del mare, nel mare, luci nell'acqua, i tesori del mare, storie dell'oceano, abbiamo varie cose, comunque è carina, e qua abbiamo la nostra checklist. Allora, Alga, Abissia, Fiscia? Fiscia, penso che sia. Fiscia, Marin, Sablena, Medusilla, Octopia, e invece, infine, Lagunia. A me piacerebbe trovare questa. A me lei. E questa. Guarda che bella lei. Dimmi. Io voglio, voglio tanta cosa. Una cosa bella. Vuoi trovare anche tu quella lì? Sì. Allora, adesso, vediamo, facciamo vedere bene il sacchettino, vabbè, questa è la parte finale, comunque ricordiamo che è di giochi preziosi. Giochi preziosi. Facciamo pubblicità anche a loro tanto. Prezzo di vento della rivista, del gadget, ok. Allora, questa è la nostra busta, contiene un personaggio inallegato alla rivista, che è questa. Si illuminano magicamente nell'acqua, qui abbiamo ancora la nostra checklist, sono tre, sei, otto, qua vi spiega come farle partire. Aspetta, vediamo se riusciamo, ok. Ha dentro tre batterie, e niente, non dà un'età, 0-3 anni, 0-200 anni, 0-3 mila anni, no, va bene per tutte le età. 0-3 mila anni. Vabbè, 0-3 mila anni. No, guarda qua, dai tre anni in su. Quindi io non lo posso neanche utilizzare se hai da 0 ai 3 mila anni. Eh sì, lo possono utilizzare tutti. Va bene. Allora, chi apre prima Morgana, prima Mirko, prima Mirko. Quale vuoi aprire? Veloce? Ok, allora. Aspetta, lo apro io. Aspetta, mettiti qua. Aspetta che la mamma te... Aspetta, te lo apro un pelino con la forbice. No, io posso io. Mamma mia. Allora, aspetta, stai. Devi stare qua per farle vedere alle ragazze cosa abbiamo trovato. Qua c'è l'acqua. Beh, ma aspetta che tanto le mettiamo dopo. Mirko stai muovendo il cavalletto. Allora, le mettiamo dopo. Tutte e due insieme, sì. Allora, Mirko l'ha aperto. Dentro cosa troviamo? Allora, troviamo, bellissimo, il cartoncino bianco. E Morgana sta saltando di gioia perché abbiamo trovato... Fischilla. No, chi è questa? Abbiamo trovato... Lei! Marine. Sì. No. Lei! Questa, Sablena. Scusate, sto in camera. Mi uccideranno. Ma, ok, siccome ho cambiato il cavalletto e ne ho preso uno grosso. Devo... Uno molto grosso. Allora. Sablena. Colore azzurro. Sì. Tipo sirena. Vediamo se mette a fuoco. Non metterà mai a fuoco. Portate pazienza. Non uccidetemi. Allora. Le perle sono la sua grande passione. Passa tutto il giorno a cercarle. Per creare gioielli per le sue amiche Glimmis. È generosa e ha un cuore grande così. Ma quando si arrabbia, meglio starle lontano. Mi ricorda qualcuno. E questa è lei. Oh, che carina. Facciamola vedere bene. E tu non la volevi trovare. Bella. Infatti è tutta ingioiellata. Ma andrà poi accesa? No, se c'è automaticamente l'acqua. Dici. Guarda, dietro. Posso? Posso? No, no, no. Adesso è in acqua. Dopo le mettiamo insieme. Vai Morgana. Stai un pochino amore proprio qui in qua. Sì. E vediamo. Che bella. Morgana l'ha già visto. Innanzitutto vediamo la parte più bella della confezione. Il cartellino bianco. È la sorpresa. E vediamo cosa abbiamo trovato. Quella che volevo trovare io. Chi è? Non capisco. Octopia. È Octopia. Allora, intanto tu aprila che noi facciamo vedere. Abbiamo trovato questa. È il suo intervento. Colore rosa tipo polpo. È una vera tuttofare. Con i suoi tentacoli può progettare e costruire tanti strumenti ingegnosi contemporaneamente. Quando si mette in testa qualcosa è impossibile farle cambiare idea. Ciao. Sì, è un pochino di... Fammi, fammela vedere bene. Eh... Ah, ma vedi che... Ah no, le braccia che carino, le braccia che si muovono. Guardate che carina. Via, 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 così. Ok. Siamo sicuri che non c'è nessun tasto come le altre? Cosa è che c'è scritto sopra qua? Non si capisce. Giochi preziosi. Ah, ok. E c'è il codice. L'ho anche messo in... Ok, adesso ragazzi, ragazzi. Non l'ho capita perché vuoi spegnere la luce. Mamma mia, è notte. Vai. No! Posso io? Che carine! Posso io? Ti prego. Guarda. Guarda, ho visto una cosa. E quando le tiri fuori? No! Dentro? Dai! No, vabbè, accendi pure la luce, mo. Accendi, accendi. No, ma guarda che bello l'effetto dell'acqua. Vabbè, adesso si vede di meno. No, vabbè, sono bellissime. Oh, scusate, ho mosso il cavalletto coi piedi. Dai! No, sono troppo belle. Ho capito che devo andare a contendere ancora, non è possibile. Anche per me. No, ma queste vanno insieme agli altri glimmis. Ragazze, dico una cosa. Dai, dico una cosa veloce che poi salutiamo. C'è quello d'oro. Cos'è che c'è di d'oro sotto? Qua. Ah, non è oro. Ma no, è una vite. È la vite che sono dentro, è il vano portapile. Ah, e dov'è quello uscite l'acqua? Eh, qua. L'acqua entra da quelle fessure qua. Guarda. E poi esce, vedi che è uscita da qua adesso? L'acqua entra da qua, c'è un meccanismo che le fa accendere. Quanti tra tra tra. Posso? Da qua sotto per ora, tac. Che la testa non va neanche a contatto. Bellissima. Bene, noi siamo contenti, ragazzi. Molto. Direi che adesso Morgana e Mirko si divertiranno a giocare. Sì, sì, sì. E niente, noi vi mandiamo un grosso bacio. E direi che domani ci sarà un video molto particolare. Voi restate sintonizzati. E metteremo anche i saluti perché è da un po' che non salutiamo. E niente, restate sintonizzati. Perché domani ci sarà qualcosa che vi piacerà a tema Lola. Quindi noi vi salutiamo. Vi mandiamo un grosso bacio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!